Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Mentre ci guardiamo nello sfondo Force che ci parla di Tron & Liberty, parleremo appunto anche noi di Tron & Liberty. In questi giorni c'è stata la Open Beta che è andata così così secondo me come numeri, perché il primo giorno ha fatto circa 60.000 concurrent su Steam, poi è scesa 39, 36, 35 e oggi mi sembra che sia l'ultimo giorno. Non tantissimo onestamente per un gioco che in teoria dovrebbe essere molto molto grosso e importante. Un MMORPG che è in sviluppo da tantissimo tempo, quasi 10 anni, è uscito già in realtà in Corea e non è andato molto bene, soprattutto nei primi due trimestri, pochi numeri e molte preoccupazioni e adesso comunque sta arrivando in Europa, grazie ad Amazon Games che farà da publisher appunto per Tron & Liberty. Adesso c'è stata questa beta aperta e a settembre, i primi di settembre, metà settembre, adesso non mi ricordo esattamente la data, uscirà in release, anche se appunto in realtà è già un gioco bello che è finito e che già cammina da tempo in Corea. Il problema principale di questo gioco, la preoccupazione di molti, anche di Force, è appunto il fatto che sia molto pay to win. E quindi insomma discutiamo un attimino di questa cosa perché dato che in uscita il gioco sarà free to play, però con questo spettro del pay to win potrebbe essere una cosa molto preoccupante. E quindi cos'è Tron & Liberty? Beh in realtà è un MMORPG abbastanza classico, con un mondo persistente molto molto grande, quasi senza caricamenti, fatto in Arial 5, molto bello per quello che ho visto. Io non l'ho provato, non ho giocato in questo weekend la beta, non mi interessava particolarmente, non avevo abbastanza tempo, però diciamo che a livello visivo e anche di cose da fare sembra molto interessante. Insomma sembra tutto bello tranne il fatto che alla fine possa essere molto pay to win. Come ci fa vedere in questo pezzo di video, lui ci dice appunto che quasi ogni cosa praticamente può essere potenziata pagando soldi veri o meglio. Noi possiamo potenziare sia le abilità che andiamo sbloccando, sia gli equipaggiamenti che dobbiamo trovare anche molto rare, però poi possono essere ulteriormente potenziati. Tutte queste cose vengono potenziate in generale semplificando con dei reagenti più o meno rari che anche questi devono essere trovati. Questi reagenti possono essere messi chiaramente all'asta e chiunque li può comprare. Il problema dell'asta di Tron & Liberty è che l'asta è solamente con la currency a pagamento premium, ok? Quindi praticamente non si possono utilizzare i gold classici che magari andate trovando e farmando. Dovete avere la moneta premium. È vero che voi potete praticamente vendere un oggetto nell'asta per moneta premium e poi quindi avere questa moneta premium, ma è ovvio che chi spenderà centinaia di euro, migliaia di euro, ne avrà così tanta che pulirà sempre tutta l'asta, soprattutto le cose più rare e più importanti e i potenziamenti migliori. Quindi fondamentalmente non ci sarà quasi mai niente nell'asta perché le balene, le classiche balene di questi giochi free to play però che hanno un'anima pay to win appunto ripuliscono sempre tutto e si potenziano loro. Quindi dato che questo è un gioco incentrato principalmente sul pvp e questa è la grande problematica, cioè si possono fare tante cose, si expa, si fanno i dungeon, si fanno le quest, un team park, ha un tap targeting come sistema di combattimento molto classico, però alla fine della fiera quando arrivate a livelli molto alti il vero endgame è fare pvp perché è un gioco incentrato su gilde molto grandi, clan molto grandi, eventi molto grandi con tante persone contemporaneamente, sia a livello di conquista dei territori, conquista dei castelli, uccidere magari boss mondiali appunto contestati dalle varie gilde e cose di questo tipo. Quindi insomma alla fine il pvp è la cosa importante e quindi ovviamente potersi potenziare tantissimo e velocemente alla fine del gioco è cruciale perché se quello strisce la carta e si compra tutta l'asta, tutte le cose che tutti vendono in continuazione, quelli saranno super forti subito e gli altri magari arriveranno a quel livello dopo mesi e mesi di farming. Capite bene che è evidentemente un grosso problema. Quindi in Corea non sta andando molto bene in realtà, almeno per quello che ho letto, visto nei video, dicono appunto che i primi sei mesi in particolare sono andati abbastanza male e adesso che viene lanciato in Europa ci sono molti dubbi, soprattutto perché chiaramente in occidente siamo con una cultura molto diversa da quella asiatica a livello di percezione e di accettazione del pay to win, ok? Per noi mediamente è una cosa non accettabile, quindi potenziarsi perché si spendono i soldi non va bene. Dal punto di vista asiatico invece è tutt'altra storia. Culturalmente parlando, soprattutto in Corea, è molto accettato perché per loro gaming, videogioco e vita reale non c'è molta differenza. Quindi se tu sei ricco nella vita reale e quindi vinci perché ti puoi permettere più cose, lo puoi fare anche in game perché è giusto, perché te lo meriti, c'hai soldi e quindi spendi anche in game e vinci anche in game. E anche questo è il motivo perché vanno così bene e vengono spesso importati dall'Oriente giochi che sono fondamentalmente pay to win, anche come tutti i gacha, tutti i gacha sono asiatici perché lì è accettato, gli va bene culturalmente parlando. E qui un po' sta attacchendo questa cosa, vedo molta gente comunque difendere queste modalità anche pay to win, però in linea di massima a noi occidentali non piace questo modus operandi, sicuramente a me non piace, io se ho un videogioco voglio vincere perché sono bravo al gioco, perché ci gioco, non perché spendo mille euro, ok? Non mi dà nessuna soddisfazione. Quindi questa è la questione, il punto è che in realtà ancora non è uscito quindi potrebbero esserci ancora dei cambiamenti perché qualcosa l'hanno cambiata dalla versione coreana rispetto a quella che poi uscirà in occidente, quindi hanno smussato qualche angolo, ma la cosa più grave appunto è che tutta l'asta è solo con la moneta premium e ovviamente spendendo tanti soldi, moneta premium voi potete comprarvi tutto e costantemente anche se le cose appunto messe nell'asta sono messe dal player, quindi c'è un'economia circolare, se possiamo dire così, player driven, c'è, però potendo tu spendere direttamente i soldi e avere tantissime di questa moneta, chiaramente andrai in vantaggio rispetto a tutti quanti. Quindi non lo so, questa è una problematica importante secondo me anche perché molti giochi appunto, soprattutto free to play, tendono poi in certi versi verso il pay to win. Il gioco appunto esce nei primi di settembre che tra l'altro è un periodo allucinante perché non so, tra fine agosto e fine settembre non so quanti giochi escono in generale, è un periodo super pieno, quindi non credo neanche in quel periodo di tempo avrò il tempo di provarlo particolarmente, forse giusto così un video di gameplay sporadico, però volevo sapere un pochettino per chi invece era molto più dentro, anche magari negli MMO che li giocava principalmente come genere di riferimento, cosa ne pensano e che sensazioni ci sono, perché per quello che ho visto io mi sembra estremamente pay to win e quindi un gioco magari che è molto figo fino a un certo punto e poi viene rovinato proprio nell'endgame, che poi in realtà è quello che si farà per tanto tempo se voi giocate a questi giochi come gioco principale centinaia di ore è l'endgame che vi interessa, proprio in quel momento mi sembra molto possibile che il gioco sia rovinato da questa meccanica dove vedrete gente super potente e la vedrete solo perché ha speso dei soldi veri e quindi si è comprata praticamente tutta l'asta e la tiene costantemente vuota da oggetti interessanti, perché c'è anche questo da dire ovviamente chi ha più soldi può anche flippare il mercato, appena esce un oggetto importante e raro a 1000 lo compra e lo rivende a 2000 oppure lo compra e lo usa, quindi ci sono molti problemi da questo punto di vista. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, più che altro questo è il video che volevo fare, volevo informarvi di questa preoccupazione generale e sapere anche la vostra opinione. In realtà ho anche qualche preoccupazione sul lancio, secondo me potrebbe avere dei problemi di numeri al lancio, è vero che adesso siamo a luglio, c'è meno gente, la gente non ha forse tutta questa voglia di provare una beta di tre giorni e tutto quanto, quindi mi aspetto almeno 100.000-200.000 ai primi due giorni di lancio, però ricordiamoci che New World, che ormai è morto e defunto, è fucking dead, era partito con quasi un milione di concurrent ed era un gioco a pagamento comunque, costava quei 40 euro, 50 euro al lancio. Questo è free to play ma rischia decisamente di non avere lo stesso tipo di trazione iniziale, anche questa è una cosa di cui si può discutere. Un po' di argomenti, magari avete provato la beta di Tron & Liberty o magari non vi interessa, perché secondo me ci sono anche dei giocatori che semplicemente sono magari un pochino più casual e quindi magari di tutte queste meccaniche, pvp, endgame, non gliene frega niente e anche se gli altri spendono, loro giocano per i fatti loro e sti cazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate in generale, sono curioso. Noi comunque ci becchiamo prossimamente per altri video qua sempre sul gaming, grazie per l'attenzione e per il supporto sempre, statemi sempre bene e un salutone, ciao ciao!